Preside, oggi è un giorno importante, è passato poco più di un anno da quando quel lucchetto è stato messo a questo portone. Oggi si riape, parzialmente, ma è un segno simbolico molto importante per voi. Oggi è un giorno speciale per noi, perché dopo un anno di sofferenze, di patimenti, nel quale ci sono stati una serie di passi, di passaggi, che ci hanno consentito di arrivare a questo giorno, finalmente riusciamo a riavere la nostra sede anche attraverso l'ingresso simbolico della nostra scuola. Oggi riaprono i battenti, come è stato scritto, dall'Ipsia Ferraris, anche se in maniera parziale. Una parzialità che comunque per noi è un grande successo, perché era insperato fino ad un mese fa la possibilità di poter riaccedere. Un anno fa io ho chiuso questo portone invitando i ragazzi e tutto il personale a ritrovarci per ridare dignità ad una scuola, per ridare dignità alle persone che ci lavorano e per ridare dignità ai nostri ragazzi. Ecco, oggi ridiamo dignità al personale amministrativo, al personale ATA, che per un anno ha lavorato nel laboratorio Voce in Movimento, un unico ambiente, 16 persone, in maniera assolutamente incomiabile e a loro va soprattutto veramente la mia ammirazione, perché hanno dimostrato grande professionalità e soprattutto grande senso di appartenenza. E quindi oggi noi ci riappropriamo dei nostri uffici amministrativi e di un laboratorio che è stato, diventa un nuovo ambiente da dedicare alla didattica. Un primo passaggio, ma c'è tanto ancora da fare e da seguire. E' un primo passaggio, sì, io nei prossimi giorni chiederò di essere ricevuta dal presidente facente funzione della provincia, il dottor Tanzarella, per avviare, per sollecitare l'avviamento del percorso che dovrà essere attivato quanto prima, ovvero quello di un bando per l'affidamento dei lavori per il rifacimento dei solai. Sappiamo che è stato già depositato un progetto, sappiamo anche che l'ingegnere strutturista è stato anche liquidato nel suo compenso e quindi adesso ci aspettiamo che questo finanziamento, che è dedicato all'Ipsia Ferraris, sono fondi per l'edilizia scolastica, sono 850 mila euro, siano effettivamente fruiti utilizzati per rendere quindi la scuola nuovamente agibile. Sappiamo che c'è anche un altro progetto che ancora non è stato approvato dalla regione, quello sull'efficientamento energetico, che farà della nostra scuola un fiore all'occhiello dell'edilizia scolastica a Brindisina. Preside, c'è anche una sua idea, quella di unire le due scuole, il Ferraris e il De Marco di Brindisi. Ecco, questo è un progetto che si è strutturato in itinera in questo anno scolastico, vivendo l'esperienza della Regenza sul De Marco Valzani e avendo lì otto classi del Ferraris, ho maturato la possibilità di poter realizzare un polo professionale Brindisino, gli indirizzi sono coerenti e sono complementari e questo creerebbe veramente un valore aggiunto non solo per la formazione dei ragazzi, ma anche proprio per il territorio, perché si potrebbero realizzare delle grandi cose. Un nuovo corso anche per il Ferraris dunque? Sì, due nuovi corsi. Noi abbiamo proposto l'attivazione di un nuovo indirizzo di studi per il Ferraris, Produzioni industriali per il Made in Italy, che è nuovissimo, approvato con la riforma degli istituti professionali, il decreto 61 del 2017, e la nostra scuola è attrezzata in questa direzione, produzioni quindi di carpenteria, di prodotti metallomeccanici pesanti, ma anche produzioni per l'artigianato, per la valorizzazione dell'artigianato locale, ferro battuto, rame. Mentre per il De Marco abbiamo richiesto l'attivazione di un indirizzo, servizi per la cultura e lo spettacolo, per la profilazione di una professionalità fonico, saranno vostri concorrenti probabilmente i nostri ragazzi, montaggio audio televisivo, sceneggiatura, quindi tutte quelle figure professionali che ruotano intorno a questo ambito.